signori buongiorno sono resi dell'antica trattoria Piedeldos e oggi sono a proporvi i tagliolini col perstone la pasta la facciamo noi naturalmente e usiamo ogni ettore di farina un uovo poi la lasciamo riposare per circa un'ora dopo la riprendiamo e prendiamo una la nostra macchinetta della pasta e facciamo la sfoglia delle sfoglie lunghe in circa 35 centimetri e poi le passiamo alla chitarra che è quell'attrezzo che vedete per fare appunto i tagliolini nel frattempo mettiamo a cuocere il nostro pestone prendiamo un tegame mettiamo la pasta di salame appunto con un po di olio extravergine la facciamo brustolire bene aggiungiamo della polvere di salvia quando la pasta quando la pasta è pronta noi la mettiamo a bollire la mettiamo a bollire in acqua salata semplice questione di un paio di minuti viene a galla la mettiamo nel tegame insieme al pestone e aggiungiamo del latte al parmigiano che non è altro che parmigiano panna e polvere di salvia assembliamo il tutto impiattiamo decoriamo con polvere di salvia signori buon appetito